I vicini di casa sono quattro ragazzi di Milano che si sono riuniti, non riusciti, sotto questa ragione sociale per stabilire quasi un rapporto più diretto con il pubblico al di là dei divi passati di moda. Ora ve li presento, anzi vi presento subito Marzia che è l'unica ragazza del complesso e poi Marzia presenterà i suoi compagni. Prego. Ciao. Allora questo è Gilberto, Enrico e Augusto. Augusto, dunque, aspetta che devo girare il foglio. Dunque i vicini di casa sono alla loro prima incisione. Il disco pubblicato dalla Digit si intitola 15 anni e sarà il loro cavallo di battaglia per la tournée estiva che condurranno quest'estate in Italia. Ora ci vuoi spiegare dove andrete quest'estate a fare queste vostre tournée? Beh, abbiamo in programma delle serate sulla riviera Adriatica, in Liguria e in Versiglia. Senti, con un in bocca al lupo da parte nostra di Adesso Musica ti chiediamo il titolo della canzone che ci canterai. 15 anni. Ascoltiamo 15 anni i vicini di casa. Ti ricordi più i nostri 15 anni Sulla strada della scuola ci si incontrava E parlando del più e del meno dei nostri affanni Con la radio sull'orecchio si sentiva I'm so young and I'm so old This my talent has been so Si quando uscivamo dal liceo Prendevamo insieme il primo trampo al volo E scandalizzando un prete mi baciavi E guardandomi negli occhi sussurrami Quindici anni, quindici anni, quindici anni Poesia di un'età che non ritorna Sulla bicicletta in due senza mani Manchi come due cavalli, io e te Ogni sabato io ti aspettavo in casa Ma la geografia era una scusa E sapevi che correglie gli certi rischi Quando al buio sentivamo il giradischi Forever Love me forever Forever Say you'll be mine Quindici anni, quindici anni, quindici anni Poesia di un'età che non ritorna Una sigaretta, un prato e le canzoni I padroni del domani Quindici anni, quindici anni, quindici anni Poesia di un'età che non ritorna Sulla bicicletta in due senza mani Parti come due cavalli, io e te Di un'età che non ritorna Grazie.